Paolo, il sogno fa parte dell'agire, no? Della imprenditoria anche. Tu in che cosa sogni? Io sogno sempre di portare avanti il nostro progetto, di far sì che tutto quello che noi ci mettiamo di buono per portare avanti il nostro progetto sia il nostro sogno. Il tuo rapporto con il letto, che è cambiato tantissimo in questi anni. Quando sto nel letto mi piace stare comodo, quindi voglio un letto che sia bello accogliente come il mio. Ovviamente un materasso per dormire, quindi un rapporto di totale relax. Credo che sia fondamentale che ci sia un buon materasso per accompagnarmi in questi momenti di riposo totale. Se dovessi immaginare una frase, uno slogan, delle parole chiave per definire per dormire. Che cosa ti verrebbe in mente? Per dormire deve essere veramente una fiaba, il filo conduttore che ti porta a riposare facendo dei sogni belli. Senti, e se invece dovessi ravvisare questo cambiamento che hai interessato per dormire in questi anni, il fatto di aprirsi a nuove tipologie, di utilizzare dei testimonial, di fare una comunicazione in un certo modo, di aprire tanti punti in Italia e quindi di segnare il territorio. Ecco, tu come hai preso questo cambiamento di questi anni? Sicuramente come un'innovazione in quello che è il retail italiano per quanto riguarda lo specializzato del materasso, perché credo che siamo forse i primi a portare avanti questo discorso in maniera così specializzata e credo che sia un progetto di sicuro successo, intanto perché lo sta avendo in questo momento, ma siamo sicuri che con tutto l'impegno che ci stiamo mettendo sicuramente diventerà ancora un più grosso successo negli anni prossimi che verranno. Una domanda che non ho ancora affatto, più il privato, il contrat? Per quello che ci riguarda come concessionari noi siamo più orientati verso il privato, però sicuramente il contrat diventa poi un riferimento, molto spesso succede che chi dorme bene in albergo ricerca quello stesso dormire bene anche per casa propria, quindi a volte vengono proprio dei clienti che chiedono lo stesso prodotto che hanno già trovato nel contrat dove ci sono trovati bene ovviamente. Grazie.